Yeee! Per la prima volta ho mantenuto una promessa Avevo detto che ci saremmo visti a settembre ed eccoci qua, il primo settembre Se tutto va bene riesco a montarlo in tempo Se non ci riesco... Comunque Negli ultimi giorni sono stato in Spagna, dato che ho dei parenti qui Ma questo non mi ha frenato dal partecipare alla Brachis Game Jam 2021.2 In pratica a Brachis si fa due Game Jam all'anno, non so perché Come d'altre volte, anche in questo caso c'era una settimana di tempo disponibile Il tema era Let There Be Chaos O Chaos La mia idea originale era di fare un gioco molto piccolo che potessi fare in pochissime ore Ad esempio 7, è giusto che fare il titolo del video Avevo 7 giorni per fare un gioco ma l'ho fatto in 7 ore Ma poi mi sono fatto prendere la mano e le cose sono degenerate moltissimo Ma questo lo vedrete a breve, tempo al tempo Quando la Game Jam è iniziata era mezzogiorno di domenica Era sulla spiaggia e fortunatamente sulla spiaggia c'è una wifi libera Che ho usato per leggere qual era il tema della Game Jam Dopo aver letto il tema e dopo circa 6 secondi di brainstorming mi è venuta un'idea malata Un gioco in cui sei in un ascensore e devi premere un tasto ma il tasto non vuole farsi premere E quindi scappa e succedono 3000 cose che generano appunto il caos Sì lo so, così non suona molto ma alla fine è venuto piuttosto carino il gioco Almeno dal mio punto di vista Appena sono tornato a casa mi sono subito messo a disegnare sprite Mentre pensavo quali sarebbero state effettivamente le cose che il giocatore avrebbe fatto Di una cosa ero certo, volevo che il gioco fosse giocabile solo e esclusivamente con il mouse Quindi con il cursore Ho programmato quindi un simpatico cursore e ho iniziato a scrivere idee sul quaderno degli appunti Come ho già detto ero in vacanza quindi non avevo tutte le comodità del mondo e nemmeno tutto il tempo del mondo Quindi ho principalmente programmato di notte Ma in realtà mi sono divertito molto E tra prendersi questa era la mia postazione Sì stavo sempre in piedi Parlando di postazione A casa non abbiamo avuto internet dato che non abbiamo la wifi Dato che mia nonna ha 90.000 anni e non lo usa E quindi ogni volta che ho bisogno di internet andavo al mare dove c'era la wifi libera E quindi ho credo questa che era la mia nuova postazione al sole davanti di vista mare Dove faceva piuttosto caldo Sì mi sono appollaiato su una giostra per bambini lo so Tra l'altro in questi giorni è che vedo anche la licenza di Game Maker Quindi ho letto attentamente tutti i termini e condizioni e ho accettato Ma senza perderci in cacchiere mi sono messo a programmare le prime fasi del gioco Volevo che il gioco fosse tempo di musica Perché la musica rende sempre di tutto modo più divertente E quindi con la musica ho scelto Barge di Gunnar Olsen Che è una musica senza copyright che potevo usare Aggiornamento delle 17 e 17 del 24 08 Ci ho messo tipo quasi un'ora a disegnare questo logo Abbastanza mediocre ma fa il suo dovere Io ho deciso che siccome ci sto passando un numero di tempo Devo passare a fare le cose più serie tipo programmare La prima parte del gioco sarebbe stata una parte in cui Il giocatore con il mouse cerca di prendere il tasto ma il tasto scappa Mentre la seconda parte è una parte in cui il giocatore cerca di prendere il tasto ma il tasto scappa Ma contemporaneamente deve anche schivare il fuoco Quindi è più dinamico Credeteci Mentre programmavo mi venivano varie idee folli che poi avrei aggiunto al gioco Tipo la Dance Break E queste luci a tempo di musica che ci ho messo molto molto tempo a sincronizzare con la musica stessa Piccolo dettaglio L'ordine delle luci è rosso, verde, blu Che sarebbe RGB E la luce che le precede è una luce bianca che sarebbe l'unione delle tre E no, non sono per sotterti i significati anche alle cose più stupide No no, ho questo momento in cui il bottone per scappare letteralmente rimpicciolisce la sconata di gioco Cosa molto metagame che mi piace un sacco fare Aggiornamento del giorno Non mi ricordo il giorno ma è giovedì Il game jam è stato domenica Quindi fatevi quel calcolo Inizio a desiderare di avere un reale tavolo per programmare Perché stare in piedi sono iniziando a soffrire E niente, non ho altro da aggiungere, continuiamo Vabbè, a questo punto del video direi che è il momento di partire col montaggio in cui faccio cose Via Grazie a tutti Ok, è fine del montaggio perché mi sono accorto che negli ultimi due giorni mi sono dimenticato di registrare Quindi siccome ho quasi finito, ora lo finisco e ci vediamo direttamente alla fine E quindi venerdì sera mi sono messo a programmare con l'idea di finire il gioco entro quella sera E assolutamente non ho finito in orario indecente, ma ce l'ho fatta E dopo aver sofferto il caldo, il freddo e lo stare in piedi, il gioco era finalmente finito E avevo anche un giorno e mezzo di disposizione in più che avrei potuto usare Ma che alla fine mi sono goduto la vacanza e basta, quindi non ho fatto niente di programmazione Come ho detto, volevo metterci circa 7 ore in totale, ma alla fine mi sono fatto prendere la mano E ci ho messo, non mi ricordo, circa 11 a 7 ore, dopo andrò a controllare Vi faccio vedere alcune delle parti del gioco La maggior parte delle sezioni sono a tempo, quindi se finisce il tempo, muori Nella seconda parte del gioco c'è una barra della vita, quindi ovviamente anche quando la finisci, muori Qui il tasto rosso scappa prendendo il posto degli altri bottoni e facendoli cadere Oppure qui il giocatore deve trovare qual è il vero tasto in mezzo a moltissimi tasti falsi O qui che c'è l'indovinello opposto e quando lo prendi il tasto cade in un buco nero perché... Perché no! Questa parte in cui ci sono questi muri che teletrasportano il mouse al centro dello schermo Quindi il giocatore non può scappare dal centro E nel frattempo deve scrivere le fiamme Ah, e piccolo dettaglio Siccome quando non so come chiamare una variabile metto nomi stupidi Una quantità vergognosa di variabili si chiamano sesso, quindi meglio che non ne parliamo Comunque, alla fine di tutto questo ho registrato qualche video, ho fatto qualche screenshot E ho pubblicato il gioco 15 ore prima della scadenza Quindi, perfetto E quindi a mezzogiorno del 29 agosto le votazioni sono iniziate Nel momento in cui registro è il 30 agosto e ho già ricevuto i primi commenti Che devo dire sono molto positivi, più di quando mi aspettassi Ora ci sono altri 13 giorni disponibili per votare, quindi vi terrò aggiornati Un saluto da Matteo del futuro che monterà in aereo Ciao 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 Ciao